Severo Drive ha introdotto sul mercato una modalità consulenziale per aiutare le aziende manufatturiere nella trasformazione in ottica 4.0, implementando tecnologie SPQ Smart e personalizzate che apportano reali vantaggi in termini di produttività, efficienza e flessibilità. Tutto questo è racchiuso nel servizio Lean Smart Factory. Il nostro obiettivo infatti è quello di affiancare e supportare le aziende grazie anche alla collaborazione di System Integrator Certificati Serve nella realizzazione di progetti innovativi che mirano a aumentare la flessibilità e l'efficienza produttiva, velocizzare lo sviluppo e il time to market, semplificare l'integrazione tecnologica, far crescere e aumentare la sicurezza sulla parte produttiva e di assemblaggio. Per arrivare allo sviluppo di strumenti 4.0, la consulenza di Lean Smart Factory si struttura in tre fasi. La prima è l'analisi dei processi attuali produttivi. Si fanno fotografie della fabbrica e dei processi, si individuano i prodotti e il time time della fabbrica, si isolano i processi a valore aggiunto grazie all'utilizzo di value strip mapping e di fine si arriva all'esame dei flussi di lavoro. Fase 2. Progettazione del processo produttivo futuro. Dei finiti gli obiettivi e il time time atteso, si vanno ad eliminare le attività a non valore aggiunto, si automatizzano quelle a basso valore aggiunto e si vanno a rivedere bilanciando i vari step produttivi e si revisionano anche i flussi di lavoro, modificando se necessario il layout dello stabilimento. Fase 3. Elementi tecnologici. A conclusione del processo sono scelte le tecnologie applicabili, progettando l'infrastruttura IT e verificando al stesso tempo che layout e tecnologie siano perfettamente ammolizzati l'uno con l'altro. Un caso esemplare di Lean Smart Factory è presente presso la nostra sede SEB di Solaro. Questo approccio ha portato a grandi risultati. Aumento della produttività del 20%, capacità di aumentare l'output giornaliero del 60%, riduzione drastica dei tempi di consegna fino a 3-5 giorni lavorativi e all'incremento del mix di prodotti. Gli attori principali della trasformazione 4.0 dell'officina di Solaro sono i Mobile Assistance System, veicoli intelligenti a guida autonoma, che fungono da mezzo logistico ma anche come banchi di lavoro per l'assemblaggio dei prodotti, a supporto dell'uomo nelle attività di fatica a basso valore aggiunto o poco professionalizzanti, digitalizzando e semplificando tutte le attività produttive e logistiche della fabbrica. Questa evoluzione tecnologica ha permesso di creare una forte sinergia e collaborazione tra uomo e macchina. Per noi si è rivelata di fondamentale importanza per le attività giornaliere che svolgiamo all'interno dell'azienda. Questo perché gli AGV ci hanno consentito di svolgere i nostri compiti in maniera molto più semplice. Gli AGV sono dei veri e propri robot collaborativi autonomi, sono dei partner sostanzialmente che ci aiutano a diminuire il carico di lavoro. Queste macchine permettono a tutti i lavoratori non solo di svolgere al meglio il proprio lavoro ma hanno anche una funzione di sicurezza. Infatti sono in grado di diventare dei banchi da lavoro ergonomici ed intelligenti che si regolano in base all'altezza corporea. Ovviamente non nascondo il fatto che all'inizio, come in tutti i grandi cambiamenti con l'introduzione degli AGV ci sono state delle difficoltà. Mi viene da pensare alla gestione degli ordini e se a quel che concerne la parte pratica di utilizzo dell'AGV stesso. Ovviamente superate queste difficoltà abbiamo subito notato le grandissime potenzialità degli AGV. Il reparto logistica cuore pulsante dell'officina composto da 11 addetti lavora a stretto contatto col reparto assemblaggio. Infatti quando riceviamo il pezzo dall'assemblaggio noi lo imballiamo e successivamente lo spediamo. Siamo in grado di spedire il materiale in 3-5 giorni o un'urgenza in 24 ore o far sì che il cliente venga a ritirare il materiale qua in un stabilimento a Solaro. Inoltre da un anno e mezzo a questa parte abbiamo attivo Save Health, un servizio per essere più vicino al cliente attivo nei giorni festivi. Ovviamente per garantire tutto ciò ci vuole alla base un gran lavoro di team.